In seguito all'incontro tra amministrazione comunale di San Severo, il comitato prospedale alto tavoliere e il direttore generale della ASL Foggio Avito Piazzolla presso gli uffici della ASL Direzione Generale di Foggia, il dottor Piazzolla si è impegnato a risolvere le criticità individuate nell'immediato, individuando nel nuovo direttore sanitario dell'ospedale l'indispensabile punto di riferimento. E' stato previsto in tempi rapidi un sopralluogo del dottor Piazzolla presso l'ospedale di San Severo al fine di porre all'attenzione anche il problema relativo alla cucina, anche se tale problematica riguarda l'intera area regionale. In tempi rapidi si annuncia l'amministrazione comunale di San Severo chiederà la convocazione di un consiglio comunale monotematico in adunanza aperta al fine di produrre un documento programmatico finalizzato al miglioramento qualitativo dell'ospedale sanseverese. In quella seduta saranno invitati il governatore Emiliano, gli assessori regionali del territorio, i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio, nonché i consiglieri componenti della Commissione regionale sanità, i vertici della ASL e quanti hanno a cuore la struttura ospedaliera dell'alto tavoliere.